Le elezioni indiane rischiano di costare molto care a giro nella torre. Dopo mesi di tira e molla tra Roma e New Delhi di accordi annunciati e poi smentiti di partenze e ritorni in India, ora i due fucilieri rischiano di nuovo di essere condannati alla pena capitale. A scriverlo stamattina l'Industine Times, quotidiano centrista della capitale indiana, che citando fonti anonime ma ben informate, racconta che i diversi ministri del governo in carica sarebbero pronti a autorizzare la NIA, la National Investigation Agency, a presentare il proprio rapporto accusatorio. Un rapporto che si baserebbe sulla famigerata sezione 3 della legge contro la pirateria, che prevede appunto di punire con la pena capitale chiunque causi la morte di una qualsiasi persona. Anche se poco fa il ministro degli interni indiano ha fatto sapere che la decisione verrà presa solo tra due o tre giorni. Non solo, il giornale specifica anche i dettagli del rapporto, come lo avesse già letto, in cui si sottolinea che i due militari italiani accusati della morte e i due pescatori scambiati per pirati non lanciarono avvertimenti, non utilizzarono altoparlanti né spararono in aria prima di colpire gli indiani a bordo della St. Anthony in avvicinamento alla nave italiana. Una svolta della vicenda dunque drammatica e imprevista, dal momento che proprio ieri il ministro degli esteri indiano aveva rassicurato l'Italia, escludendo in ogni caso la possibilità di una condanna capitale per Girone e la Torre, ma che in realtà potrebbe nascondere qualcosa di più. È evidente, infatti sottolineato stamattina il ministro della difesa Mario Mauro, che la campagna elettorale in India si sta avvicinando in modo prepotente e il governo italiano mostrerà la necessaria inflessibilità. Non è un caso, infatti, che la vicenda dei due fucilieri sia finita sulle prime pagine dei giornali in testa ai notiziari indiani. Il rapporto tra New Delhi e Roma è molto delicato. A guidare le sorti del maggior partito indiano, il Congress, è proprio un'italiana di nascita, Sonia Gandhi, che dal 2004 guida la coalizione di partiti che governa la più grande democrazia del mondo. E dunque screditare tutto quel che suona come italiano, puntando all'orgoglio nazionale, potrebbe essere l'arma letale scelta dalle opposizioni per la campagna elettorale, come già successo, peraltro, in un recente passato.